Allora, benvenuti a tutti ragazzi, oggi noi su YouTube sono stato pieno e oggi nel canale metterò convinte di sopravvivenza e di macchina. Quindi devo aspettare, devo careggiare oggi. Allora, benvenuti a tutti. 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 Allora, benvenuti. Benvenuti a tutti. 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 Ma vuole mai che io mi sono sempre nella piscina, porca miseria, ho fatto un'altra volta, Pagni iscora, in realtà è un'altra parte, è un'altra parte, è un'altra parte. Grazie a tutti 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 E come sempre ci vediamo al prossimo video Alla prossima Buona domenica